La tigre del farmweb che gioca a minecraft con quel volume che c'è Luke 43 E ciao a tutti ragazzi, quest'oggi come potete vedere C3 è un nuovamente qui nella TechIt Siamo Luke e Chip, ciao ragazzi, ciao belli Ciao Come fanno molti ultimamente Comunque ragazzi, abbiamo concluso la stanza, l'abbiamo annerita, scurita E ho messo quattro pistoni appiccicosi in modo da avere questo Porte che si aprono e porte che si chiudono Chip, ti metti un attimo qua, voglio vedere se fai effetto Fermo, lì Aia Funziona Allora ragazzi, oggi andremo a craftare un bel po' Bravo, chiudi lì Andiamo a craftare dei filter Filter, filter Dei filter Che ieri abbiamo fatto, no Comunque noi siamo, ah, la RedBuzz Patrol Sì, vabbè Il Silicon Wolf Vabbè, sì, ciao Allora, a lavoro, siamo in tre, a lavoro Vai, allora, serve call e send Subito E va messa nell'alloy fornace, 8 e 8 Call e send Il problema è, dov'è l'alloy fornace? Allora, la send la faccio io Ma dove mi ha messo l'alloy? Ma, era qua sotto? Eh, era, là sotto A posto Ma, what the fuck? Ragazzi, hanno fottuto l'alloy Allora, o non l'abbiamo più piazzata Aspetta, magari giù nei, nelle scatole Ma, può essere Aspetta, controllo Controllo Eh, sì, ho piazzato un blocco di sabbi Aspettate Ho inventato faccio la sega lì Eh, sì, è qua, è qua, è qua, è qua È qua, allora, per il momento la piazziamo qui in mezzo Vai Ok, per cui mettete 8 e 8 Carbone ne abbiamo Sì Mi serve dell'oro Bam Che ora io copierò Mi servirebbe due diamanti, ragazzi Eh, vabbè, muovi troppo Un diamante Un diamante Un diamante Non c'è Vai a prendere l'energia, arrivo Vai Perché non mi fa mettere il coal all'interno della transmutation? Ok, ragazzi, nel video scorso avete, come sempre, perché l'intelligenza non è il vostro forte Avete, come sempre, frainteso le mie parole Non parlavo di persone, persone aiutati Ho semplicemente detto che noi giochiamo divertendoci e facendo un gameplay Sapete che vuol dire gameplay? Ossia, giocare e la gente ci segue Game play Giocare è un gioco Ok? E per cui la prendiamo con calma Facciamo vedere mentre rompiamo i blocchetti Mentre piazziamo i blocchetti Mentre facciamo i pirli È normale che poi Si arriva ad avere un sacco di episodi Mentre se persone entrano e usare materiale degli altri Solamente per il puro scopo di far vedere cose interessanti e avanzate È totalmente diverso E non sto parlando maliziosamente Ho semplicemente detto che è diverso Il nostro giocare dal giocare di Marcus Cron in questa serie È diverso Noi l'abbiamo iniziata dall'inizio e stiamo facendo un gameplay Lui ha iniziato facendo un episodio ogni tanto E cose complesse e avanzate Punto Non abbiamo né parlato male di Marcus Cron Anzi E come al solito siete voi Piccoli esseri Razzisti Disumani Che mettete zizzanie È semplicemente quello Ok? Per cui spero che qualcuno Intelligente abbia capito ciò che voglio dire Che non rompiate più i cosiddetti coglioncelli nei commenti Ok? Grazie Detto questo Allora Detto questo Ho fatto la sega Ho fatto la sega Hai fatto la sega? Sì Sce male Come al solito i bambini non capiscono Marcus Cron Gioca Entra una volta ogni tanto E fa vedere degli impianti Ok? Spero che fin qua ci siate arrivati Noi invece Avendola iniziato dall'inizio Questa serie È prevalentemente Principalmente Sul survival Sopravviviamo Giochiamo Ci divertiamo Punto Poi con calma Facciamo gli impianti Giusto Esatto È questo quello che Non avete ancora capito Perché il prossimo viene a scrivere Eh Marcus Cron In due episodi Ha fatto quello che voi Avete fatto in trenta Bloccati Instanti Ok? Non ha neanche più voglia di scrivervi nei commenti Perché tanto siete Coglioni E non capite Raga Quanti ne state facendo? Ah Peppo ne sta facendo Un po' Un po' Un po' tanti Basta Basta Peppo Mica Ne vengono 16 a botta Uno stack e mezzo Ne ho Basta Basta Togli Ma perché tu li stai copiando? Togli tutto Chi copiando? Il silicon wafer Il silicon Se tu lo metti con la sega Guarda nella scena Guarda Guarda Ne fa 16 alla volta Ne ho fatti tanti allora Ora questi Con la redstone Eccola qua Messa dentro Mettiamo il carbone Bam Li facciamo diventare rossi Boom Ora iniziamo a fare la forma del filter Iniziamo a fare la forma del filter Allora pistoni al centro Sì Oro ai lati Cobblestone l'attorno E cosi rossi sotto Me ne servono ben Allora il filter funziona uno per uno Ok Allora un filter 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 Ok l'ho fatto uno Filter 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 No E lui è qua Dov'è lui Ah ok qua uno per uno Filter 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 Sì Ce ne serve un botto Regà A posto 8 8 filter 8 A voglia Uh a voglia Dai allora Dobbiamo aspettare che fanno 8 palle Chi li ha presi Io Perché 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 ce ne sono 4 Eh ma non prendere tutto Sposti tutto Se no No appunto sposta tutto Cioè nel senso Metti qua 8 pistoni Allora Vai Perfetto 6 Facciamo così Contiamoli Vai che così Ok 8 E 8 Perfetto Perché non cuoce più Manca la redstone ragazzi Eh Le aspetta Eccola qua Arriva Arriva Bam Oh Perfetto Nice Tieni intanto Tieni qua Io un filter Già ce l'ho Non so perché Due filter Mi fa mettere la roba Qua dentro What the fuck Ma chi fa Sti filter Ah ok Ne ho 4 Ne ho 4 Aspetta ma ragazzi Ma si possono copiare i filter No No Eh Magari Sta cosa è lenta Dobbiamo fare la cosa A corrente poi Ricordatemelo L'alloe è a corrente Ma ci serve la corrente Della Della Sì Perfetto Allora Già che siete lì Mi serve Della Della redstone Quella potente Bella figa Quella Quella pova Allora Mi serve Mi serve Mi serve Mi serve Cosa Che cosa le serve Messara Eh mi serve il materiale Per fare quella roba lì Che si fa Allora redstone Aspetta dici la redstone Mi servono gli ingotti Quelli rossi Allora redstone Ringotti rossi Redstone e copper O ferro O copper 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 C'è l'ho Sì sì Ma tanto abbiamo finito qua Dai Quanto ne mancano Io ho cinque filtri Io ce ne ho due Dammeli Dove sei Qua dietro Vai basta Mi manca uno Sei ne ho Sette A posto Basta Basta Allora qua mettiamo Copper e redstone Facciamo quelli ingotti lì Via questi E via Che ski Cioè mi porca vacca Perché ho un sacco di sand Sto ne roba varia Eh perché Ah è perché L'ho presa dalla Loi smelta Perché la loi forme Io ho copiato Un bordello di sand Ma mi serve un altro filter Ok Eh ce l'ha Pepo Fatto 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 Stai 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 Allora due Me ne serve un altro Che ne vengono sedici Se non ero sbaglio Dico stronzate Cavolo Sì Dovrebbe Sì Sì Dai 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 O dodici o sedici Non mi ricordo Niente un po' Sedici 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 Per me è sedici Per me è dodici Perfetto Ho ragione io Ok Aspettiamo altri tre Intanto facciamo la stanzetta Venite un attimo Senza fare confusione Dobbiamo mettere i filter Allora Vi faccio vedere Ragazzi sentirete i rumori Di sottofondo Ma perché stanno facendo i lavori Sotto casa nostra E sono arrivati Porca boia Porca miseria Porca boia Ce la chiudo la finestra Arrivo Scendo Allora vediamo se riesco a mettere I filtri rivolti Verso il basso No Eh no Devi Eh Cacciavite Ragazzi bisogna scavare Abbiamo il cacciavite Eh Usa il cacciavite Vediamo un po' Eh eh Mo chi ne so io se giusto Eh Rompi quello sopra Rompi quello sopra Per Perfetto il cacchio Hai il buco piccolo sotto Ok Ricordatevi che dal buco piccolo entra E dal buco grande esce No Dal contrario Scusatemi Per cui qua sopra c'è quello piccolo No aspetta No Qua sopra c'è quello grande Ok allora al contrario Ottimo Così Ok Perfetto Per cui dobbiamo metterli tutti così Uscendo arrivo un attimo Togliete le coble Sì subito Allora Sono tutti Con il giallo in giù Ok Ok Avete visto che il filtro è raccolto Ragazzi ho chiuso la finestra Ok Ok Parto Ottimo Ora andiamo a caftare Mentre li cuoce I tubi Scrivete tube Con la redstone Non i primi ma i secondi I redstone tube Facciamo i tubi che si fanno col bus Il brass Il brass è Tin e copper Una tin e tre copper Ok Sempre nella l'alloe furnace Eh sempre nella l'alloe furnace Una tin e tre copper Allora prendo la tin Prendo la tin Vai Ragazzi chiedo veni a prendere Se c'è casino sottofondo Ma Non possiamo farci nulla Stanno rifacendo tutte le strade qua La tin e copper Facciamo un po' di bus Dovrebbero venirne 4 alla volta Di bus Brass Che bus Sì teoricamente sì 3-1-4 Scendo arrivo un attimo Mamma mia Fai fatti 4 luke Brassingo Ok bene Ho preso del vetro Vai mettilo qua Eccolo qua E vengono 8 alla volta Mi serve della redstone Mi ha finito la redstone Eh ci sono tre pezzi Dammi che la copio Dammi che la copio Scusa non la puoi copiare Dammi che la copio E dentro Vabbè Dai sta arrivando qua Il casino raga Peccatina Ok buttata Luke Ma una domanda Perché a me non la fa mettere Nella transmutation table Perché probabilmente C'è l'MC Sì L'MC Eh sì c'è l'MC Ecco punto Ah quindi se c'è l'MC Non la posso copiare No Devi raccoglierla Comunque Che brutta Preso la redstone Allora Mi vengono 8 tubi No molti di più Oh ma qua c'è ancora Raga Porca boia Vai non lo stacca E basta Vai Voglio voglio Andiamo Bam Fatto Aspetta qui tolgo Andiamo Andiamo Lascia lascia lo fare Ah ok Ma porca trova Allora Bam Mettiamo tutti i tubi sopra Ok Per poi unirli da qualche parte Allora Dobbiamo uscire Dobbiamo uscire Allora questi tubi sono quelli intelligenti della red power che sono fantastici Mamma mia Dobbiamo arrivare da una parte Per il momento Io arriverei qua Per il momento Allora Vediamo un po' quant'è Eh Uno Due Per cui uno Raga sono rispostati Non riesco a camminare Grazie Facciamo qua Come? Facciamo qua No dai che figata Dai bellissimo Ok Ora Dobbiamo Chiudere tutto Datemi la cosa nera Ehm L'ho messa a posto Non pierla Sì La pietra nera Ce l'ho anch'io Dobbiamo chiudere tutto qua Togliati Sennò rimaniamo incastrati Da qua Senza lasciare buchi Via tutte le torce intanto Via Tolto tutte Ok occhio Prima che spawnano Chiudiamo tutto a questa altezza Ah ok Bella aspetta 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 Togliati Eh sennò ci incastriamo adesso Raga devi farlo uno dai Vai Fatelo voi È chiuso bene Non mi ha lasciato le buchi Sì sì Non lascio buchi Sperare perché funzioni Eh sì L'ho detto Uno deve farlo Sennò ci incastriamo L'ho detto Vabbè fai tu Dai Cazzo l'italiano Pepo No vabbè Stavo facendo la parte dove non c'eri tu Quindi Aspetta me la copio ancora Ce l'ho io Eh vai È mezz'ora Dico togliti Ok è quasi chiuso da sto punto Allì in fondo è chiuso perfetto Bam Anzi no neanche Bravissimo Potevo anche non metterli Vai buono Fatto Fatto Ora Qua entra luce ma non dovrebbe entrare sotto Perfetto Una cesta Oh sto arrivando Sì Arrivando cosa Funzionano Lu Ce l'ho ce l'ho la cesta Ok Lu Eh È finito Era dentro il tubo quel coso Perché è uscito Perché non c'è la cesta Ah è che infatti Se ti togli dalle scatole forse Ok grazie Per il momento lasciamo lì Ora andiamo sotto E voglio vedere se funziona Aspetta A parte che manca qualcosa Qua Gli andiamo a mettere un timer Andiamo a costruire un timer Un timer Allora un momento Logicamente non facciamo quello con la computer Che facciamo un timer normale Minchia Allora ci serviva tutta sta roba Per cui un sacco di stone Che la faccio io La stone ce l'abbiamo Ce l'abbiamo come sa eh La faccio io Eh Lu Ce l'abbiamo un sacco Ce l'abbiamo tre stack Ah dammi allora Cioè dammi vieni qua Allora facciamo un'altra Project table Che lo usiamo solo per quella roba Costruiamo una project table Dai Vai Però lo facciamo nel prossimo episodio Che ne dite Pamma Ragazzi siamo arrivati a buon punto Vi ricordo che noi si siamo lenti Ma perché ci divertiamo E non ci rincorre nessuno Un bacione e un abbraccio Dai Luke Peppacip e tutto Ciao Ciao ragazzi Ciao